Secondo Fantastico, vedo che stai selezionando praticamente la schermata del multiplayer Dai, adesso facciamo la... partiamo con lo streaming Ecco, ecco Facciamo la partita, siamo online Ma siamo già su YouTube? Sì, siamo on Io mi sto seguendo su YouTube Ma scusate, ma non vogliamo aspettare che arriva anche il mic, loro? Ma dopo si unisce, dai Ma il mic non arriverà mai Il mic sta mangiare la pizza, capirai? Vabbè, ragazzi, io non lo so, ho un po' paura in realtà Eh, effettivamente questo streaming in formato... Questo streaming in formato terremoto ne approvo il massimo Questo è la radio di Umberto che non si è tenuta a bere una birra No, ma ce l'ha tirata poi, ha detta Le palle d'ora una volta No, è io tutto oggi che le sto toccando Ma non serve Allora, signori Partiamo, dai Operazioni, vado io, mi seguite? Sì, aspetta che io non mi ricordo Oh, vai te, vai, come ti pare, guarda Vai, metto operazioni, dai A che sei unito? Vai, parto io con operazioni, dai, aspetta Mettiamo preferenze Preferenze, tipo? Andiamo su parete di ferro, dai In Italia, i confini con la Slovenia Aspetta che devo uscire No, no, è una merda No, la migliore è la prima e la seconda, in realtà Allora, mettiamo, mettiamo, via Andiamo su in Germania, dai Dai Ok, stavamo in me Ok, stavamo in me Il bombardamento iniziale fu così intenso Da essere udibile persino a Londra Allora, io per un imme Ok, accanto dagli due, no? Sarà una lunga notte con queste scosse, ragazzi A me per un imme come faccio? Non l'ho mai fatto, il resto Che dovrebbe arrivare il messaggio Direttamente che il party Stava entrando Stava facendo una partita Ok Se vuoi unirti Ok, ok Non so se me la voglio unire Fate attenzione Loro li chiamano salto No, sei indeciso Vabbè, sai, in ballotta Col metragliatore Ma come superante, ma come superante Fino all'ultimo nemico Allora, qua fuori ci stanno Ampie tuoni, guarda Cazzo No, non mi fa Non sento il tuo audio, Pallo, però, su da YouTube Come no? No, esce solo il video Non c'è audio? No No, raga, a me non mi ha fatto entrambi Mi ha sbattuto fuori L'attacco tedesco imminente Questi sono gli ordini Il pallo mi dice che sei off-line Unisci da me, Pino, che avevo messo stato online No, è offline Allora anche questa posizione saltasse Ci ritirerai Perché loggo sempre offline Poi metto online, eventualmente Pariano Parliamo italiano Ragazzi Giochiamo a molino Giochiamo Perché se no Adesso mi dovresti vedere online Sto anche in campo Ah, sto entrando Vai che ti vedi Vai che entro accanto a te, Pallo Vai, cazzo Allora signori, io sono medico Quindi se siete a terra Chiamatemi E vi vengo a rianimare In questo modo Urlate forte Se serve me in fine dito Il nostro generale Urlate come delle casche Dico Oh, Dio Oh, Dio Mi ha testato Ho mandato il link a Umberto Vediamo se guarda lo streaming Se a me lo guarderà Ma non lo dirà mai Ok, ci siamo Ma tanto lo vediamo se qualcuno ti vede Come a me lo compra la playstation Sto domani Ah Luke, tu sei caposquadra E quindi dai gli ordini Per dagli ordini Basta che guardi una bandiera E di ti Alle 1 R1 Guarda nella bandiera? Cioè devi guarda L'indicatore Insomma Il personale Deve essere la bandiera E premi R1 E ti dai l'ordine Cioè tipo Guarda Guarda B No, no, no Basta che Guarda Vedi Il cursore Devi guarda Verso B O insomma Si prendi Dicona doveva Candamo E PTR 1 E selezioni La richiesta Come Come per Spotta La gente No R1 R1 E no R2 Eh Lo vede Mi chiede Mi apre un nome Con No, ma Non devi tenere Premutere Che sono più giallo Se lo tremmo E basta Non mi fa fare niente Guarda Guarda la bandiera Guarda B Ah ecco Così Così No, ma Sì No Sì E Dacce Gli ordini Cioè Cioè Li vidi dove andà Insomma Appena Resuscito Lo dico Aspetta Che veriano Rientro accanto a te Fino No Si è morto Eh ma no Ma no Diato C'è qualcun'altra Squadra Però toccava Chi del gruppo Vabbè Poi casimo Lo cacciamo Via Ah no Non c'è nessuna Squadra No Siamo in tre Siamo in tre Ok Le porta Le porta Su di casa Una prende Raga Non ci fermiamo Qua Io ci sono Bucato armati Un accanto all'altro Aspetta 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 Che E' Spericoroso Comunque Le scopate Me piace Che hanno fatto Le cose Le I ruoli Fatti meglio Facco Cane Delicotto L'aereo Vaffanculo Hanno fatto I ruoli Fatti meglio Rispetto a Butterfield 4 Boh Si no No È fatto bene Come Come Classi Ok Dai Zitti che ci siamo Abbiamo ripreso Le bandiere Grande Pino Oh Che non è stato sulla mitragliatrice Che ammazzano Cazzo Da dietro Da dietro Da dietro S'ha arrivato in trincea Da dietro S'ha arrivato in trincea Eh no 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 È pericoloso No 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 Torniamo Uno l'ha ammazzato ma Però non andiamo Non famo troppo gli eroi Stiamo più indietreggiati Dai che stiamo mantenendo Le postazioni Sì sì no Ma stava gioca bene Perché non riesco ad avanzare Però So subito di questi Non so Stronzi Che attaccano subito Arrivano alle spalle Tipo ninja Quindi tocca Sta in difesa Senza Muove stroppe Esattamente Tocca camperan Insomma l'hai detto Detto in italiano Io non volevo Usare termini inglesi Ma me costringete Incapite quel che rigo Se no Merda Pallotta è sull'aereo Abbiamo perso l'obiettivo Alfa Cioè bellissimo Io sto guardando pallotta Che gioca E intanto ce l'ho anche in audio Mi sa che è al telefono Mi sa Aspetta Aspetta Lutca l'abbiamo con te Ok l'abbiamo con te Da sempre io Allora l'abbiamo perso l'obiettivo bravo No no Abbiamo perso A Abbiamo perso tutto Oh stava a perdere P Oh stavre porti sul B Niente l'abbiamo perso Oh stavre porti sul B Abbiamo perso il settore Non ci vedo Oh stavre porti sul B Ma perché quelli con La tuta da Da flammiere Non li so Quanto corazzare Eh quelli c'hanno una corazza allucinante Quali? Quelli che Il lanciafiamme Il lanciafiamme C'hanno una corazza C'hanno armatura medievale Per buttarli lui Gli ritra mille colpi E gli spada anche col cecchino Perché gli rimbalza Sì sì no guarda L'unica è tiragli le bombe Guarda l'unica cosa che Sono lenti Quindi gliela fai con le bombe Vabbè Io c'ho questa guarda Stava divertendo Oh caro armato di merda Allora comunque l'audio ancora non si sente Abbiamo perso l'obiettivo alta Se attacchi YouTube Non senti l'audio Tu non vuoi il gioco? Sì Solo devi sentire se c'è Allora il nostro si sente? No non senti niente Neanche il mio? No Non prestatelo Non prestatelo Non prestatelo Non è un attimo Stazione trasmissione Aspetta Eppure si dovrebbe sentire Oh Oh C'è terzo? Boh, sarà un problema Nel senso non funziona Stiamo perdendo l'obiettivo, bravo Oh, oh, un è morto Basta, chiudo il gioco per stasera Abbiamo perso l'obiettivo, bravo Stavamo a perdere tutto Oh Boh, non capisco perché insente l'audio nostro Prova a rifare lo stream Boh, ma no, perché comunque usavo tutto come dovrebbe essere Sto a guardare pure le varie impulsazioni Non mi pare che Abbiamo perso l'obiettivo Charlie Hanno preso l'obiettivo, così non va ragazzi, viaggiamo Boh, gliel'ha preso il carro al mato 6 Entrate su, andate subito Attenti, atto c'è un po' di cielo Questa è arrivata a sbagliare Oh, è un altro fulmine, eccolo, eccolo Abbiamo perso l'obiettivo Charlie Ragazzi abbiamo perso l'obiettivo, così non va Pisa sua Ci stanno seguendo Niente eh Non è vero, ma è vero Ancora senza audio, Brandy? Aspetta che lo faccio ripartire Ma non è che ne hai messo l'audio No, ma lo sto sentire, sto sentire gli effetti sonori e tutto il resto Vabbè, che anche l'icona, vedi, sopra lo streaming dice che c'è il microfono Quindi ci dovrebbe essere lì Oh, ora sì Iniziamo? Oh sì Allora salutiamo Yaler che ci ha scritto Che è Yaler? Eh, ha commentato salve, ci ha salutato C'è un'utente che sta seguendo lo streaming Senti là, setti C'è un po', c'è 30 secondi di ritardo, eh, però vabbè Vabbè, quello ci sta Chi è Yaler? Dai, sento, come che è Yaler? Fatti cazzo tu È una persona che ci sta seguendo È il nostro unico follower No, ci abbiamo due, ci abbiamo due follower In questo momento, vedi, ci giochiamo bene perché fin'altro abbiamo fatto veramente schifo Ok, non mi sto vergognata solo di giocare No, ma eravamo distratti dal temporale, il terremoto Ah, il terremoto sicuramente non aiuta Ma andate tre, ma corri troppo, vale, riesce più, più easy C'è che mucca armato davanti, che vuoi essere easy Ah, che vedi un altro di qua, che ciaone proprio Dentro e trova cazzo C'è accortellato, attacca dal cazzo Stiamo perdendo l'obiettivo alfa Senti, pallo, come viene insieme No, no, fottuto, bastardo, chi è? È il cararmato Sono uscito dal car, sono uscito davanti al cararmato praticamente Mentre stava sparando Abbiamo perso l'obiettivo alfa Ma mi sa che mi ha preso sotto proprio il cararmato Stava, ma comunque sono forti, eh, io non so che io Ma veramente mi sa che siamo scarsi noi, eh Ma, ehm, ti devo essere sincero, io non so mai andato in negativo su una partita finora Questa è la seconda partita che va nel negativo E la prima era quella che fa... Sei contento del fatto che ancora sei in una fase da piedi? Sì, sì, no, infatti guarda l'altro positivo delle cose È brutto, è brutto sentire il terremoto Però probabilmente stiamo facendo il primo streaming sotto scosse di terremoto Infatti ho arrivato la buildazione dal joypad che se no ho disegno che non mi non accordo St'arriva da dietro, st'arriva da dietro, st'arriva da dietro Grande, ti hai già fatto ria di mamma, raga Cioè, io, 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 dove sei? Eh, qua fuori dalla casa Ecco, 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 ecco Ma aspetta, aspetta, non spawnà, non spawnà, tu dimmelo che rianimo io Eh, vabbè, ma dai, come cazzo è possibile che non massimo così? Ma dai, ma c'è il giocchino che gli sparo a... Gli sparo in continuo di 70, 80, non gli sto mai con un colpo Ah, qui ce n'è sempre uno, su sotto No, merda, eh, l'armata è questa Eh, ma è un punto... è troppo esposto qui No, c'è troppa gente, raga, va bene Eh, poi tanto, no, è arrivato, è arrivato Niente, cambiati, gli faccio cambiare Terzo settore, lì Ragazzi, sul tank, sul tank, tutti quanti come sul carro armato Mettete posti dietro, che c'è sta il lanciafiamme Pallo, ho messo il lanciafiamme sul carro Grazie Vai su, no, va sull'altra postazione, quella dietro Il tanti veicolo è disponibile vicino alla posizione Ancora dietro, e per a Da, da, va bene, va bene Mamma, sempre a me c'è il ritardo Guarda, basta, basta a tablet Occhio carro Merda, ma ragazzi, che si dà già l'avventura nostra Oh, scende a riparà, ma non so se si la faccia Oh, forse, con quello che posso No, non che posso Eh, guarda, cattordia, guarda Abbiamo pagato tanto quel carro armato Tutti i nostri risparmi Ben iscritto Eh, che cazzo, sono morto dietro ragazzi Sta arriva uno, sta arriva uno E' un po' seranima Ah, dai, rientro, rientro Ecco me, trovo abbastanza ruggito rispetto a BF4 Eh, vabbè, un po' è ma diversa come gioco, è tutto diverso Ah, via Devi prendere la mano Beh, è molto partita Poi no, ma siamo sfigati Siamo sfigati, è perché sono forti Di solito non... C'era la mente ho visto che è in più Ma c'è, ma un colpo testerno, no, è il carro armato sempre Mannaggia il Cristo, questo carro armato Eh, anche da me non la fa Mi sembrava intorno a un continuo Una volta che piglio mirà Allora, la prima postazione, ragazzi, piano è finita, eh Quindi, corremo in più su A Pregatevi, andare a essere e morire Sta riprendo a vivendo Su A Su A, su A, riporta, riporta Stanno conquistando Facciamo due ste due telespettatori, adesso non ci vediamo Porca troia Sì, abbiamo perso I crocchi ce le hanno date di santa ragione Ma la lotta non è finita assolutamente Non è finita, non è finita Ma ci prepareremo e mostreremo al nemico di che pasta sono fatti i britannici I primi assalti della Kaiserschlacht Hanno sfondato le linee britanniche Costringendo le forze inglesi a ripiegare verso Amiens Non lo so, che senso Non lo so, come? Perché il periodo è quello che ha commentato Che c'è via di tutte le truppe alleate in Francia Quella ha commentato Non c'è il tablet, c'è il cellulare quello lì Scrauso e... E mia assistenza Commenta... Gli uomini devono ricordarsi che stavolta si vince O si muove Lo sappiamo tutti Francesi, canadesi Australiani, neozelandesi Le truppe indiane e tutti i nostri alleati Ora però ci siamo solo noi Inchiudati qui contro i crocchi migliori No, qui c'è il treno Trendo pure a seto Forse c'è un gioco? Eh? No, perché guardavo lo streaming E' ancora sulla parte della precedente Vabbè, se era sicura dopo Era brutto segno Di che andava avanti nel treno Sì, il treno, sarebbe stato bellissimo Vabbè sì, c'è un po' di ferita, no? Qui Ah, ma c'hanno il treno, c'hanno, eh? Il treno ci si è a noi qui No, sempre gli attaccanti Sempre gli attaccanti Dobbiamo difendere anche i nostri quattro Dobbiamo difendere anche i nostri quattro Ah, c'è il treno Qui qui non è meglio di no Abbiamo subito Queste rovine Ma io guarda, io invece vado su a Perché gli metto la... Sul seminario Il treno Vai, diventato Il nemico riuscirà a avanzare oltre Opporremo la nostra ultima resistenza A plus Longville Altro sangue britannico sarà versato Ma saremo noi a trionfare Tu mi raccomando, Luke Da sempre l'ordine Perché da un sacco dei punti Mmm, è vero Ok Vai, Luke Aspettare di te No, sto perso Luke, che cazzo stai? Ah, ecco ti Ah, ah, ah Tu ho perso Ah, ecco il treno che arriva Ah Mi fuggi da sotto e dentro Che scuola Dipendiamoci E avanziamo Oh, no, 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 no Questa terra è nostra Diventiti da andarlo a tutte le basse fuori Noo Voi a terra Noo Un'altra 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 Attento, Luke Stanno arrivando da destra Eh, il carro armato mi ha ben ritirato su Sotto No, ma non è vero Continuiamo a rubire Porca puttana persa Ma sono veramente forti comunque C'hanno già pensato Ragazzi abbiamo perso Sì, abbiamo perso a cagliare già Ma c'era un merda proprio Ma c'è nessuno Tra un genitino Sì, ma non c'è nessun genitino Poi non c'è nessun genitino Poi non c'è nessun genitino Poi non c'è nessun genitino Vogliamo guarda... Quattro genitino Sì Sì Andiamo su... Che difendiamo? Biwa? Variando il Mike S'arrivata Andiamo su Andamo Vediamo dove arriva Vedrai Abbiamo avvitato l'imparca Non so che cambiamo tutti Accanto alla ferrovia è un casino No, no, sta lontano Guarda, sta vicino proprio alla bandiera Ecco, bravo, là va bene Eh, guarda che... Chi è? Eh, questo non ho visto La ferro di miei mani Eh no, io sono... Dietro, mannacchia Dietro, mannacchia Ok Prodiniere è un po' serenino Ma... Qua sua, ragazzo Abbiamo perso l'obiettivo, bravo Seguirà Seguirà Cazza Ieri Stiamo perdendo l'obiettivo alfa No, ma dai, ma dai No, ma dai, ma dai A me che ti trovo Abbiamo perso l'obiettivo alfa No, no, no Allora, vai per cambiapartita Il Mike è arrivato? C'è un abitatore in party Ma... Non viene che se... Chi viene lui Aspetta che... L'ombito, aspetta C'è un po' bello che loro rimangono sempre su quota 100 120 Ma ancora lì che si rischia di fargli del male Oh bello! Non lo so Ragazzi lo sentite il Marco? No No, ovviamente no Gli era già nel microfono Sì sì, le c'è Ah ecco, le c'è, le c'è Le c'è Chi mi fa parecchio? Ah, è la partita più difficile della storia Mike Ma ovviamente tanto non ce la so Il microfono sei su Youtube, sappiamo No, non ci sono messo la trasmissione Ah, gli hai spiegato come fa? No, aspetta Dagli... Allora, vai sul... Sul menu quello del... Da Playstation Mike A te Mike Vai sul menu della... Vai sulle impostazioni della Playstation Vai su condivisione e trasmissione Condivisione e trasmissione Poi vai su impostazioni audio Sì Sì Tutto dovuto tra le caselle che vedi Poi adesso quando sei sul party eh Anche non stanno sparati Quando sei sul party audio Sulla schema del party audio Vai su... Impostazioni party E c'è tipo impostazioni della condivisione della voce E c'è tipo impostazioni della condivisione della voce C'errebbe essere auto qualsiasi del genere Tutti sempre Abbiamo perso l'obiettivo Charlie Non senti sempre Basta? Siamo Tutto questo per evitare i problemi passati? No Tutto questo per poterti... Poterti sentire su YouTube Siamo in live streaming su YouTube Siamo in live streaming su YouTube Cioè il mondo ci guarda? Cioè il mondo ci guarda? Cioè milioni di persone ci stanno guardando per fare i sim Sì Sì Ci parano di noi Ci parano di noi Non è niente qualcuno si connessi Guarda... Vabbè che ci so io ragazzi cazzo Eh... Ma se ne vanno senza di me Vado qua Noia Abbiamo perso l'obiettivo bravo Che mazzo uno arriva a quell'altro Nooo Tutti subito ragazzi La seconda sorba è stata fortissima Eh la sentita Sì, è un bel terremoto Non c'è male Ah l'obiettivo Ma è l'obiettivo Chi so' a sto perciò? Non ci siamo su... Stiamo su... Io c'ho il mitragliatore quello gigante questo Vino! C'ho? Ho sblocato Fondragon Ti si ingalo Ma che cazzo raro? Aggiungi all'inventario o scarto per 270 Ma è fucine o no? No, ma è che ti ho già spiegato dieci volte E se intanto la sfida Allora, fustido Tielo, trattieni tutti Alla scarto per 270? No, no, Tielo, Tielo A meno che non trovi doppioni, devi tienli sempre Non c'è buona sega però No, finché non sblocchi il Mondragon E anche quando lo sblocchi C'è solo la mimetica, insomma No, ma è Sembra che sta inizialmente Cazzo, arrivano tanti No, 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 non andiamo troppo avanti Torniamo su là, torniamo su là No, ma fatti, la chi è che si sta lontando Vai, vai, grazie Lì, grazie Lì, grazie, con lo streaming Sembra quasi in clan serio Ma nessuno vive di Americo? No No, la casa è piena Fermami si regala La casa quella lato a destra È piena di gente Stanno conquistando Alpha ragazzi Dai, 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 dai Devo entrare come medico No, no, uno però c'è sempre un medico Dai, entro io, entro io Io sto in bandiera ragazzi No, aspetta, io la prima volta La prima volta che uso il medico Ma quando cura C'è la siringa con le iniezioni Sì Ma che cazzo No, in realtà gli fa in prelievo, guarda Oh, ci dà che sto davanti Con questa Con questo con il massimo Sì 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 Un coglione Vabbè, scusate, raga, ma Pensate che ce l'hanno di più pillatori Nella prima guerra mondiale O la seringona Mi tenereci un'ira Ma io adesso riprende la bandiera Estremamente, dai Forza, troia Che sto a metter zanno E poi tu è la tua destra Fortuna La classe Mi scuso Eh Spera, ora poter l'icare È un momento Un momento dopo No, 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 no Non è pieno, non è pieno No, no, ci sono 20 posti liberi Vieni, vieni Perché non ne va avanti Ma è fatto, raggiungici in partita Mi diceva C'è un party disponibile C'è una partita per il party Ma raggiunge il team E' nato X Però mi dice Sponda o difendi Sertore Evito viaggio, eccetera Mi fa vedere che può O riceve il party Che fosse la medaglia da seguire Allora vai Vai TGL2 R2 Scusa E vai Su Luke Triton E Tgia R2 Ti vorrebbe di su R2 Raggiungi un gioco Una cosa di impegno Ma perché Non ho avuto il silo Sto facendo più lento Vedi sempre Restano 20 assalituri Eh, devi vedere Sì, l'ho fatto così Mi capito di cosa No, Luke Triton o me E poi Premi R3 Mi pare R3 o L3 Ah, 3 no, 2 Ah, no Cassetta medica, ecco Cassetta medica, rimettete in sesto Cassetta medica, ecco Ma io era come una stama ripendo Stava Mamma mia Capirai, c'hai due assalzatori E praticamente Un di sua Due curatori Hai Forza Con la cassetta medica Hai assati a poco Con una cassetta medica Mi rivero tra per terra Vabbè, anche se mi sento due Sulla bandiera Anche una cassetta medica Non me fa pazza mai Uno lo porto fuori io Non me fa pazza Nooo Sì No, siamo contro Eh, ci hanno sfondato Vabbè che c'è un medico Ci dovrebbe rianimare Ragazzi Ragazzi 13 13 uccisioni di fila ho fatto In verico Ce n'è uno Ecco Subito Sulla discesa Per andare Alla ferrovia Occhio Davanti alla bandiera Lui Mai Chiara Ma Quanto è musulata Questa Porca troia Abbiamo vinto Finita I crocchi tornano a casa Con la coda fra le gambe Ma so perché Non è ancora finita Stavo sul cazzo Perché sto tentando in trap E non è che Non me cacate Voglio dire Stavo sul cazzo Dillo Adesso un pochino Se non vuoi giocare con noi È inutile Grazie Della partecipazione Sì È pigiata R3 È quello rotondo È quello È lo stick È quello È lo scarto No Infatti è sempre R3 C'ho le pro C'ho le pro No Prima R2 Per andare sulla partita C'è scritto Segui Vabbè dai Sono inglese io Vuoi? Noi siamo inglesi Noi siamo inglesi Non ci senti l'accento? Prova l'accento inglese Anzi adesso Adesso Voglio un po' di autocombustione Stiamo perdendo l'obiettivo C'è un po' di autocombustione Un po' di autocombustione Abbiamo perso l'obiettivo Non me passerà voi per ora Eh ma come pos- Ah forse c'èmo il party C'èmo La squadra chiusa Non lo so Ti dice I team sono pieni Eh no Siamo un tre noi Forse c'è me molto I team sono pieni La fazione è piena Ma la fazione Noi siamo in britannici Non è inglese? Noi siamo inglesi Eh io sono tedesco Ah eh Ah ecco Aspettiamo qua Allora la porta è piena No ma ti ammazzà Dove stai? La fazione è strana? No siamo venti Siamo I team sono pieni Ma aspetta ma tu Chi è che ha scelto il gioco? Luke hai scelto te? Abbiamo perso l'obiettivo alfa È un attimo offline con l'audio Eh l'ha presa da 40 giocatori No la 64 Si vede Io ho detto Fatemeli scegliere a me i giochi Fate messa a me L'opinion leader No No Aveva meritato solo questo No No Diretta nazionale mondiale No Ha 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 Ho rotto a livello Di neurovisione No no Il mondo è visibile Allora Andiamo perso Andiamo su cia Andiamo su cia Fiamo come prima Che la difendiamo estremamente Dai primo sta partita Poi dopo il fomo Anca Si 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 Dopo cambiamo tutto Mike Fatta ammazzare Ma tanto sento dove siete E io Muera caccia al Mike Dai veramente Tocchi le due fa Una volta Per farlo Ah è vero Abbiamo l'infiltrato Abbiamo l'infiltrato E te scoglia Sei pure tedesco Sei pure un crucco de merda Cioè Io veramente Guardi Ammazzerò E mi botterò A vostre mogli Anzi Sua moglie Ma c'è Si Hai mangiato la pizzina Hai mangiato la pizzina Ma dove hai presa Lì a Monteruce Si si Cazzo quanto è buona Hai visto Ma vuole pizzeria Si Ma vuole un po' i grilli 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 No non lassù L'ho presa la rotondina sotto casa mia Vicino a casa mia No ma quella del policlinico è eccezionale Veramente in una parola Troppo cara No? Quanto costa? 7 euro? Quanto viene? 6 euro? Eh ma anche un po' più No 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 Di vale Di vale Poi è rettangolare A me le pizze rotonne Ma non lo so Cazzo Sta moda del rotone Deve finire Basta Basta Sempre rotone 30 anni che mangiare pizze rotone Da solo per quello M'hanno più un vinto Ho trovato Ma voi mi venite conto? Non ci guardate in giro Ma io per le ho tratto anche il kit La lancia chiamma Eh è Luca che lo deve aprire Io non posso farlo Sei da noi È lui il Sei nell'inglese? Sì c'è l'inglese No aspetta Sì c'è ne arriva Luca Poi sì mi serve Jacopo come team leader Se no me Allora che ti stai a fare? Devi aprire la squadra Luca apri il gruppo Luca Ma tenete la salva a terra Come faccio la salva a terra? Eh boh R Da solo Joystick Provo col joystick R3 Perché assicchiamo UL3 Come sta fagando Abbiamo perso l'obiettivo No ma non è vero Spiro l'hai sbloccato Nell'altro giorno Aspetta Eh mi ricordo Non posso farlo io Mi sembra che R2 R3 UL3 Sempre quei tastoni centrali Ma la peggio Promoviglia Poviglia Squadri Personalizio Spera Spera Squadri Termi Vaffanculo Pubblica Vai su Charlie Vai su Charlie E pgr2 Ah è pubblica Pubblica Dai Sei? Vai No è arrivato qualcun altro Rompicoglioni No è messo solo nei quattro Pugiremo L'arrivo messo solo nei quattro Abbiamo perso Provo a chiudere Abbiamo perso a Mienne No tanto ormai Mentre l'Europa che conoscevamo Svanisce Eh infatti lo puoi butta fuori Vabbè che ci ha fatto niente Pure Sì infatti Con le loro condizioni L'Inghilterra è ridotta a silenzio Alla fine non è che ci vogliamo Nelle due settimane seguenti L'inizio della Kaiserschlacht L'esercito tedesco Ha subito 250.000 vittime Fra le quali Buona parte dei propri assaltatori Senza riuscire a ottenere La vittoria decisiva Che cercava Gli alleati Sono entrato con voi E ho perso una partita E l'ho vinte tutte Cambio clan Basta Cambio clan Il palo si avrà Sì Gli hook ci ha prato in tutti i mori Ha infatti entrava Ma se lo vuoi entrare comunque Era un po' i coglioni Sì Ha detto vio entravo vio entrare E il gioco ci ha punito a tutti poi Scusate Sottolineerei Veramente ha punito solo me Perché voi già perdevate Allora raga Sì è uscita è finita Abbandoniamo? Allora abbandonato adesso Seguitemi C'è un po' i coglioni Pollo dei leader Abbandonato C'è un po' il mic che sta prepara Qualcosa Non ero io Ormai riconosco i rumori Che facciamo operazioni sempre? Non ero io Sì in serio Fammi un'altra operazione Dai che è bella di squadra almeno Te giuro Non ero io Non sono io Tanto anche io sto rumore Vai che facciamo? Chi è che fa sto rumore? Ma che se è te Ma smettere di fare il salame Ma te lo giuro sulla madonna Ma purtroppo non sono io Ragazzi gli unici cannoni Sono quelli di carro armato C'è rimasto Microspino Che me lo faccio dopo Quindi Io sto a entrare raga Io c'è tutto abbugliato Aspetta aspetta Siamo tutti Dillo qua Vai Uniamoci tutti Uniamoci tutti Sopra Iacobo Tutti sopra nemmeno Gli davanti e dietro tutti quanti È un uomo sposato ragazzi Non è un po' più spazio Ma l'altro giorno Pio l'aereo Ma non era ieri Ah no non era ieri Ah sì era ieri No non era ieri Era ieri Ma è detto la cazzata Che non vanno giocare Ah c'avevo Quindi anch'io l'ho rimosso Parte la mappa Riesco a salire sull'aereo Un imbecille da dietro Dei miei Con il suo aereo Mi parcheggia sopra il mio E mi fa schiantare Cioè assurdo ragazzi Cioè il mio aereo Quando lo vedevo Che sarà schiantato L'immagine che sarà staccata no? E c'era un altro sopra Che piava a fuoco Che era il suo Bellissimo Ha iniziato partito eh Cioè proprio appena iniziato Aspettate che scriva Umberto E gli dico le seguici Eh io l'ho mandato il link Ma non Non ci ha cagato Ma l'hai mandato privatamente? No ma l'ho sul gruppo Da due partiti da A o da B Aspetta che spawna pieno Aspetta che spawna pieno No Michael Non so per quale motivo Ma tu sei il capo squadra Cosa sbagliatissima Aspetta che dovrei spawna Federica Un secondo Vedi? Perché siamo a parzi Dentro sta casetta Blandi Sta meno Mote di scherza E dobbiamo di fuori Di fuori Di fuori Di fuori Dai Dai Vediamo un po' Da croc Che si fa qualcosa di meglio Ecco Adesso Il carammato Ovviamente Stiamo perdendo ciò Dai arrivo su di qua Andiamo di qua Devo avere un po' Le fucili Se non passo di livello Non posso comprarmi Nient'altro Che sega Eh ma infatti Voi sbagliate Che correte troppo E cazzo Il 4 era abituato Che doveva essere una scheggia A volte si Ma spesso Spesso Qualc'è se Molto camper Dai Boots Non c'è Ma moriamo Ecco Diretta moriamo Ma moteri animo No Merda Moteri animo Invece Moteri animo Perché c'è un cecchino Maledetto Che mi ha fatto Mai sponare Su Boots No Anche perché Di solito Sempre quel primo Che muore Capisco Come cazzo È possibile Se siamo in 4 In fila Se siamo in 4 In fila Io sono il primo Che muoro Cosa Ti metti in mezzo Al campo Sempre il negretto Dietro al grilletto Ricordati Ma perché lui cerca Di creare un divorzio Soltanto lo crea Con se stesso Alla griffin Spremmo di porzino Guardami 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 Tira io Tirai 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 Sono Funtano Non lo prende Ben più Ma non è Tanto la bandiera è qua Non ci perdiamo mai Oltre la bandiera Ma è Stira gli ordini Ma è Stira gli ordini Ma è Tira gli animo Aspetta No, Pino sei sul capo, ah, dai e faccio Occhia le spazze Morto Ok, vi rianimo, vi rianimo, non vi preoccupate Basta che mi chiamate Morto anch'io, ah Ma è tutto pronto, vero Ah, ecco, 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 ecco Non ci muovemo, non ci muovemo troppo da qua Tanto stanno a venire verso il B Quindi fate un punto bello coperto Merda Questo non era coperto, mi sa Ma a me non mi piacciono altri testi Sirenghe del cazzo, che sveglia Guarda, io Questa cosa però è già messa sul cazzo, eh Abbiamo perso l'obiettivo Questa è un esempio, cambia la maschera anticazzo Perchè? Ah, è vero Questa è una maschera anticazzo invece che quella cazzo le sirighe Ah, ma la maschera anticazzo è in su, la sirighe a destra Sì, sì, infatti, ieri vedevo che sto... Ma non più video la sirighe, ma mi mette la maschera Vedevo che per rianimarme, vedevo il match prima ho messo la maschera anticazzo Poi dopo tipo, ha cominciato a vista qui, chitta rota E' intanto adesso, salzavo lì more... morendo E lui che faceva il balle E io volevo, ti dittavo, rimette quella cazzo le sirighe Non me la... non c'era verso, ragà C'era verso che entrasse la sirighe Allora, no, cazzo, aspettate No, 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 no Aspetta, sto scrivendo a Umberto Està l'espaande, pregi, occhi alle spalle, ha... Io... Io... Successi un tardo per me... Ah, super, che l'avevo buttato Ciao sarebbe Non lo so, sì Interessimo tutti eh Armato Chi è a terra? Qualcuno a terra? Sono io a terra Eh non posso mai Niente No eh no c'è caso di animarti ma non... No ma se non c'è moro è inutile non andate a fare i kamikaze Eh ditelo Dora se no aspetta cazzo C'è problema eh No i kamikaze mai Mai fare i kamikaze Allora se volete un bel punto è dentro la piazza dove ci sono i cannoni D'artiglieria Pulse di anima Vuoi? Sono qua a tre metri da te Tre metri su Fabrizio Ho visto che ti sei accacciato sopra le mie Mi sei venuto sopra e sei mai abbracciato È venuto nel vero senso della parola È stata bellissima Si è accacciato sulle me E poi si è accacciato E magari si è accacciato Magari si è acceso una sigarette successo Sì veramente il medico non riesco a padroneggiarlo come su bf4 Cioè non mi rende conto che non Abbiamo perso l'obiettivo Questa cazzo è una pia b Questa cazzo è una pia b Questa è una pia b Questa è una pia b Allora è finita 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 Abbiamo perso il settore Rispondate su c Sì No è la madonna Voleva arriva anche Umberto eh Pramente si è connesso un'altra persona Quindi penso che ho Bello Certo si va bene Tanto sai lui comincia da commentare Dicendo spiegati Eh 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 Prendi una bella piazza Guardatevi vedere bella questa cazzo Cioè il carro vaffanculo L'ha sparata L'unico che non se lo unculava Non te lo tu È chiaro io Lo metto in missile Ma tutti che gli sparano Stai da dire Prendi un carro Vado a vedere cosa è questo qui Sento male se lo faccio a prendere qua Ma raga io non trovo un'imici Arrivano arrivano Eccovi Eccoli Stanno arrivando l'indresso principale su C, ma su A, le hanno arrivato su B, su B le hanno sentiti, ahia le hanno arrivato su A eh, prima, eh, quindi sono arrivato anche in tango ragazzi, questi tirano le brutte le hanno forti, ma anche prima, non capisco che è successo ma, io sì, io ho fiume, ieri sera, quando ti erai abbandonato io avevo lì questo, non ho capicato, non ho capito, non ho capito, ho partito c'era gente che era a livello 16 sì, ovviamente, un'altra scuola diventa a livello 26 ma io ad esempio, che farà? C'è l'altra scuola diventa a livello 29 ma ho visto anche gente a livello 60, eh, io cioè c'è gente che non ha dormito per tre giorni, praticamente ma c'è gente anche che è entrata tipo tre giorni prima perché se lo comprare la Playstation Plus entrava tre giorni prima, quindi ci sono anche 18 diciamo, a metterli 4-5 ore al giorno non voglia, sono sicuro bravi restano 50 assalitori oh ma porca puttana, le hanno, non è possibile no, ma è mostruose via 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 è birano preso non mi sta facendo succedere fino alla morte sperando le fasi il rival è bellissimo malissimo no, non mi sta facendo malissimo sai, ma nel verso? ha, tembi Stiamo a fare, stiamo a fare, stiamo a fare un'altra parte di libera Stiamo a fare un'altra parte di libera Ma ma ci vanno da tutto, ci vanno da, grazie arrivano ovunque Ma cosa c'è questo? GOOOOOOOD Ci abbiamo una scambazione Restano dentro, senti Sì, è non ceduto Sì, è non ceduto No, è stata la seconda volta Non capisco, andiamo sulla squadra No, ti ho fatto qualcosa Io proviamo a riprendere A Possiamo veramente, possiamo veramente stas Tanto C adesso se la prendono, sicuro Andiamo a riconquistare Dai Per niente accanto a te Non cederemo Trovo a coprire dietro No, ma non lo cazzo No, ma non c'è niente Ah no, non c'è niente Ah no, ieri è infatti, ieri è infatti, ieri è infatti Sono morti Non ce l'hanno fatto a prendere No, ne sono finiti i ticket Ragazzi I crucchi vincono molto l'americana ragazzi, tanta roba Infatti stiamo sul punto di una casa bruttissima Eh amore quello Zeppelin, si riusciva a pia l'aereo Ma lo Zeppelin è nostro, no, non è nostro No, è loro, è loro Comunque ci sta una contraerea Ma adesso provo subito a pia la che mi ricordo che stava qua E' mezzo a E' mezzo a Verso il settore a E' proprio in mezzo lì ai giardini E' un po' esposta però Se la prende fatta Ho provato a vedere se li ho scadatti sul pozzo Almeno era quello che mi ricorda Poi magari sbagli Per praticarla so Che missilate che sta a tirare lo Zeppelin E' ancora vista, l'ho vista, l'ho vista, l'ho vista L'ho vista, l'ho vista, l'ho vista L'ho vista, ma ovviamente lo Zeppelin è un malice integrato Dove sta va bene? Sta su A Sta proprio Sta su A, prima di arrivare qui sulla destra Ma lo Zeppelin è che avete vasta Abbiamo perso l'obiettivo alfa Ma io, ma dai, e Cristo Ma l'ho fatto Guarda Luke, sta bravanti a te Se la fai prima Ma no, ma non ti conviene Andiamo, coprimo piuttosto Cioè andammo su un posto coperto Non riesco a vederla, non riesco Eh l'ho vista io Voglio provare lo scout, voglio provare il supporto Voglio provare Luke, guarda da me Aspettale Ma no, andalo Zeppelin No, ti sei morto via 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 Mi sto vergognando Non significa che sto facendo più punti di te Questa è una cosa veramente 8 uccisioni ho fatto Ma io non ho mai Ho beccato un tristico potente Madonna l'aereo ha capito che stava andata la controaere No Bacchia non ci perdi tempo Tanto stanno là No ma io buono Porca croia Ho trovato questo un po' di dogetto laterale Luz attento dietro di te No Uno l'ho ammazzato ma Altro no Potete rianimatevi Tanto che ci sono i nemici No raga io cambierei server Si no è incredibile No ci lanciatissime le squadre Non si gioca Si si è finito Non ho mai visto una cosa del genere Sembra che stava arriva su No dove cazzo stara tra gli altri compagnini Sembra che siamo Cioè 4 contro 2 Stava arrivando 4 contro 100 Cioè non ti puoi muovere E' terrificante Cosa scheramenta Mannaggia la puttana Ma questi te devastano pure da lontano No ma c'hanno Delle armi Abbiamo perso il Io non so se c'hanno qualche problema di connessione Ma no perché va fluido E' proprio Sbilanciatissima la squadra Cioè ma poi gli spari Non muoiono Ah col cecchino Li devi colpire 2 volte Poi c'hanno con lo zeppline che non aiuta Che no eh Rientrate su A Rientrate su A Non so che fa Andiamo a difendere la linea Il nemico ha raggiunto l'obiettivo finale Ma po' Ma poco le metraiettrici che ti sparano da mezzo chilometro di distanza Che non dovrebbero colpirti Ti colpiscono comunque Stiamo perdendo l'obiettivo alfa Ma dai Dai non è possibile Ma vaffanculo vada dietro Come l'hanno fatto da dietro? Eh stavo a sparare quello davanti Ma ora ero anche io Oh 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 Ah Oh 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 andiamo tranquilla sembra ma perché stanno da tutti da un'altra parte grazie bastardo ha colpito uno dentro lo zeppelin col fucile e l'ho ucciso la vera medaglia quanto amore in questo team l'ha smontato severo ma è giusto l'ha sparato col fucile ma non è vero ma voglio credere fanculo e te proveci e poi pensate sta leggendo i metropolitani vai che lo hanno fatto ma poi è te che ci racconti stessi e comunque provateci se voi vedete dov'è chi spara dalla cabina provate a sparare lì ragazzo la p.a guarda non ti facciamo prende adesso dobbiamo riuscirci ragazzo per la indifesa la stessa livella non è domigliante se voglio che mi sparavano non capisco la lì stavano e rianima a sparare stiamo perdendo questo dietro sempre no no adesso quante muove non ti muove troppo perché questo è l'ottimo penso ecco come non ho detto mike oh basta ti racconti le cazzate che spara la gente dello zep e viene a 16 km e li uccidi ci fai perdere le partite cioè io un minimo di contenuto io voglio che la figata davvero con il fucile d'americo però la c'è io d'americo 3 colpi 3 colpi 4 colpi 4 colpi attirando l'esercito nemico ormai credone stanno a tornare molto più forti che mi chiusa chi chiude a chiave la porta di casa sbarrala si s'ha rotta la serratura col terremoto ah ma è ancora finita stiamo qui no l'altra zona che c'è la casa uscita chi? bernacca ma si si c'è la casa uscita il nostro paese è finito sono crollate parecchie case il nostro paese è finito l'ha detto il sindaco di uscita Giuliano Rinaldi a strategia 24 in relazione all'ultimo che farò una spossa del terremoto ma lei c'è affermato che è crollata anche la facciata della chiesa e che si è spaccato il terreno la frazione di casali non la possiamo più raggiungere mio dio ma da che brutte cose che pesa abbastanza abbastanza cazzo poi uscita la conosciamo bene noi ci andiamo a ci andiamo anche a prenotare alberghi chiusi io vorrei dire si infatti che storia del felicità che chi ne ha fatto ma guarda gli auguro che non c'è manco una crepa assolutamente no grazie grazie io no per macchia va ah oh già arrivano ragazzo di qualcosa la gran figa l'ho sentito no però purtroppo la squadra questa è ancora la partita di prima considera ancora non è finita stiamo ancora dietro quindi ci faranno il curo un'altra volta non lo aspettate vabbè 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 magari si divertiremo un tanto prima un po' vinceremo dall'alto in alto a sinistra mettila così se vinceremo sarà una gran cosa sì sicuramente ma non vinceremo vai un po' stacco ma non è che insomma tu fai finta di staccare perché c'è solo no perché ti porti la parte con la stessa no ovvio siamo in live streaming mondiale video voglio e hanno detto ad altre mille di non di non connetter di non entrare ma lasciate perde poi so giocare a peggere tutti veramente prima ho fatto la partita della vita tipo 12 uccisioni Roberto sta arrivato adesso non ci sta a guardare nessuno prima erano in due due persone prima perché c'ero io c'era Egliaco no no ci ho connessi in momenti diversi è stato uno poi si è arrivato a zero poi è arrivato adesso non c'è nessuno chi se ne mette la maschera porco cane Mike Mike la destra è diversa dal suo la destra è diversa dal suo no a me la maschera me la mette verso l'alto il medikit a sinistra però ce l'hai ce l'hai ce l'hai il sinistro il medikit gira il joystick ce l'hai al contrario lo stai vedendo il medikit a sinistra e la tua serie a destra stai impugnando il joystick in una maniera sbagliata e fu così che il Mike vede il death battlefield 2 e non si connessi no è che oggi c'è coglioni girati quindi si risponde la cazzo ragà perdonate ma non sale verde eh io comunque ho lo stemma sul braccio hanno avviculato un po' di forme di formaggio no sto inizio a scenario no mi stanno abbrustore eh non abbrustore non so quale ma natural born grill o comunque li stiamo fermando con la pila dei nostri cadaveri stiamo amassando talmente tanto tipo 300 esattamente stiamo facendo le mure dei cadaveri ma incredibile per buttare un cazzo di chi ti viene nel tre da sotto la mia maschera ma non capisco ma a me non è successo ma neanche stai buttando un tic tossico magari non è successo comunque prego è pieno grazie Mike non sapevo che risulta io apprezzo aspetta Mike no eh no lascio lascio mi piace il gas da stessi non è successo mi piace l'odore di 19 euro a me vado 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 accanto al Mike che gli do coraggio di stare via 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 a me sopra a te sopra in a te sopra sopra in a te eeeh no valla l'hanno fatta torna nella zona di combattimento Ci stanno ancora, ci stanno Ho visto una zona conca, ragazzi Non è proprio una zona Brava Siamo in un attimo Ti seguo, Mike Sì, 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 via, via, via Ti seguo Perianimo Dentro Entra casa, entra casa, viene dentro Al piazza, al piazza Alla bomba Tanto l'ho ammazzato, dai, no, colpito 188 punti, manco 200 Con la bomba che ho tirato Se potete rianimare a me Ma ci dovrebbe essere un lanciafiamme Quindi stare lontano Rientro io, è meglio Rientro io, dentro io Non so, scappato, via come incuriarle Ok, devo dire che sta Playstation Slim Ma ragazzi non è piana Piani, ma se ce la fa No, qui c'è lontano Aspetta, no, no, fai, 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 fai Ti prendi fuoco, è possibile No, niente C'è del medica, ragazzi, bucciatelo Cazzo Ho un pollo Smaccante Eh no, io ho un lanciafiamme Proprio Cazzo, mi si ammazza con lo stronzo Con il lanciafiamme No, poi mi hanno ammazzato una granata In realtà, quindi proprio C'è anche la bomba a gas C'è tanto per lì Stiamo perdendo l'obiettivo alfa Madonna quanti sono Oh, che daccia Oh, si sono organizzato Allora, ragazzi, qua le corte, qua le corte No, no, non è in pezzo Abbiamo perso l'obiettivo alfa No, no, è il finito di ordine No, 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 no No, 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 no Guarda dove erano Ma già la puttana Non l'avevo visti Guarda, come è fordito Guarda, come è fordito Davvero, eh Non l'avevo assolutamente visto Il grega di per terra Sti bastardo Stiamo perdendo l'obiettivo alfa Non va bene Come ha detto prima Il pallo, giustamente Stiamo in alto Eh, sì, diciamo La conca ne trovo stata mai una cosa tecnica No, 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 no Si vince una guerra Stiamo perdendo l'obiettivo alfa No, io non li vedo, ragazzi Ragazzi, ok No, io non li vedo proprio Restano 20 assalitori Dai, 20 assalitori È andata verso lì, c'è un punto un pochino più alto Io so che il cara è andato sul punto più alto che ho trovato, ma Sumbi, sumbi, viene sumbi Sumbi, si deve mettere le granate Oh, a me mi è tornata la bubù Io, ragazzi, dopo questa vincita Per i tiro Per deliberare No, vabbè, ma aspetta Finimo questa Finimo la partita No, no, per i tiro Perché mi fanno fuori La dream sta f***a No, non è tanto Sono arrivato a 9 e mezzo, dirglie Non è tanto È alle 9 e mezzo, Drin Che ore hanno? Ma gli hai in dieci? Via, chiudiamo, chiudiamo la trasmissione Vai via 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 No, non devi tenere le premute Perché sono più gialle Se lo premio di più e più e più basta Non mi fa fare niente Guarda Guarda la bandiera Guarda B Ah, ecco Così, così Bravo Eh, dacci agli ordini Ce li vidi dove andà, insomma Appena, appena resuscito Ve lo dico Aspetta che per gli anni Entra accanto a te, fine Cazzo Eh, ma no Ma no, grazie C'è qualcun'altra squadra Però toccava a chiudere il gruppo Vabbè, poi casimo lo cacciamo via Ah no, non c'è nessuno squadra Che si No, siamo in tre Perché? Non so Le porta, le porta su di casa Stanno a prendere, raga Non ci fermiamo qua Io ci sono bucato armati Un accanto all'altro Aspetta Ma mi guarda Aspetta che E' spericurosa Comunque questo Battlefield Mi piace che hanno fatto le cose Le I ruoli fatti meglio Vabbè, con il cane delle lecote L'aereo, vaffanculo Hanno fatto i ruoli fatti meglio Rispetto a Battlefield 4 Boh, sì, no No, no, è fatta bene come Come classi Ok, dai Zitti che ci siamo Abbiamo ripreso le bandiere Grande, fino a le... Ok, non è stato sulla mitragliatrice Che ammazzano Cazzo, da dietro, da dietro Da dietro S'ha arrivato in trincea Da dietro sono in trincea No, no, no È pericoloso No, no, no Torniamo Non l'ha ammazzata, ma Branno, andiamo Non famo troppo gli eroi Stiamo più indietreggiati Da che stiamo mantenendo le postazioni Sì, sì, no Ma sta matriota bene, perché non riesco ad avanzare Veroso, subito Sì Allora, di nostro si sente? No, no, non sento niente Neanche il mio? No Non fissatelo Un attimo Stazione e trasmissione Aspetta Eppure si dovrebbe sentire Oh C'è terza? Nel senso non funziona Stiamo perdendo l'obiettivo Bravo Oh Oh, un è morto Basta Chiudo il gioco Per stasera Abbiamo perso l'obiettivo Bravo Stiamo a perdere tutto Da Non trochę Ah Chiudo il gioco Oh, non capisco perché è insentato il lato di un osso Prova a rifare lo stream Oh, però perché comunque usavo tutto come dovrebbe essere Secondo Vedo che stai selezionando praticamente la schermata del multivale Dai Adesso partiamo con lo streaming Siamo online Siamo già su YouTube? Io mi sto seguendo su YouTube Ma scusate ma non vogliamo aspettare che arriva anche il mic loro? Ma dopo si unisce dai Ma il mic non arriverà mai Il mic sta mangiare la pizza, capirai? Vabbè ragazzi, io non lo so, ho un po' paura Effettivamente questo streaming in formato terremoto ne approvo il massimo Questo è la rabbia di Umberto che non si è tornata a bere una birra No, ma ce l'ha tirata poi, ha detto Mi le palle d'ora una volta No, è io tutt'oggi che le sto toccando Ma non serve Allora, signori Partiamo, dai Operazioni, vado io, mi seguite? Sì, aspetta che io non mi ricordo Ah, vai te, vado Come ti pare, guarda Vai, metto operazioni io, dai A che sei unito? Vai, parto io con operazioni, dai Aspetta, mettiamo Preferenze? Preferenze, tipo? Andiamo su parete di ferro, dai In Italia, confini con la Slovenia Aspetta che devo uscire No, no, è una merda No, la migliore è la prima o la seconda, in realtà Allora, mettiamo, mettiamo, via Andiamo su in Germania, dai Dai Ok, stavano i metti Il bombardamento iniziale fu così intenso Da essere udibile persino a Londra Allora, io per un imme Ok, accanto dagli due, no? Sarà una lunga notte con queste scosse, ragazzi A me per un imme come faccio? Non l'ho mai fatto, in realtà Ti dovrebbe arrivare il messaggio Direttamente che il party Stava entrando, sta facendo una partita Non avere fine, non di direzione Ok Se vuoi unirti Questa è una guerra nuova, ragazzi Non so se me la voglio unire Fate attenzione Loro li chiamano salto No, sei indeciso Vabbè, chi migliore An ordine di uscire dalle trincee E di più un bel cedio E pallotta col metragliatore Sulla propria baionetta Immagino Va come esuberante, va come esuberante Fino all'ultimo nemico Ma qua fuori ci stanno ampie tuoni Guarda, davvero Non sento il tuo audio, Pallo, da YouTube Come no No, c'è solo il video Non c'è audio No No, raga, a me non mi ha fatte entrambe Ma ha sbattuto fuori L'attacco tedesco imminente Questi sono gli ordini E pallo Della linea blu Devono reggere Unicità Pino Che avevo messo Stato online No, io sono offline Allora anche questa posizione saltasse Ci ritirerò Perché loggo sempre offline Poi metto online eventualmente Italiano Se parliamo italiano Vi devo seguire ragazzi Giochiamo a Molino Giochiamo Adesso mi dovresti vedere online Sto anche in campo Ah, sto entrando Vai che entro accanto a te Pallo Vai cazzo Ora signori Io so medico Quindi se siete a terra Chiamatemi E vi vengo rianimare In questo modo Urlate forte Ma tanto lo sai che c'è Si serve Nel nostro generale Urlate come delle casche Dico Oh Dio 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 Ho mandato il link a Umberta Vediamo se guarderà lo streaming Se da me lo guarderà ma non lo dirà mai Ok ci siamo Ma tanto lo vediamo se guarderà lo vede Come uno compra la Playstation Sto domani Ah Luke tu sei caposquadra e quindi dai ordini Per dagli ordini basta che guardi una bandiera e ptl1 r1 Guarda nella bandiera Cioè devi guarda l'imitatore insomma il cursore deve essere la bandiera E premi r1 E ti dai l'ordine Cioè tipo guarda b No 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 basta che guarda vedi il cursore devi guarda verso b O a insomma si prende di cona doveva che andiamo E ptl1 Sì e selezioni la richiesta Come per spottare la gente Non ho idea R1 e no e r2 Eh lo vede mi chiede Non so stronzi che attaccano subito Arrivano alle spalle di punigia Quindi tocca sta in difesa Senza muove stroppe Esaltamente Tocca camperan insomma Hai detto Detto in italiano Io non volevo usa termini inglesi ma me costringete Incapite quel che dico se no Perda Pallotte sull'aereo Abbiamo perso l'obiettivo alfa Cioè bellissimo io sto guardando pallotta che gioca Ah è entrato ce l'ho anche in audio Ah 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 Io non ho staccato l'audio mi sa che è al telefono Mi sa che è al telefono Aspetta Luca la di con te eh Ok la con te eh Da sempre gli ordini eh Da l'ordine di fanno il video Abbiamo perso l'obiettivo bravo No no abbiamo perso l'obiettivo bravo Abbiamo perso l'obiettivo bravo Cosa cazzo Niente abbiamo perso Abbiamo perso il settore Non ci vedo E' una malattia ma perchè quelli con la tuta da flammiere non li so quanto corazzare ah quelli hanno una corazza allucinante quali quelli che lancia fiamme lancia fiamme hanno una corazza c'ha un'armatura medievale per buttarli lui direi che tira mille colpi e gli sparano anche col cecchino perchè gli rimbalzano si si no guarda l'unica è tiragli le bombe guarda l'unica cosa che sono lenti quindi gliela fai con le bombe fallo comunque l'audio ancora non si sente si attacchi youtube e non senti l'audio